la prossima puntata di misterium sarà veramente qualcosa di misterioso non faremo la solita visita in un luogo misterioso rinomato ma la prossima puntata sarà dedicata a un fenomeno nuovo che non abbiamo mai affrontato il fenomeno dei fantasmi sì certo che volendo essere precisi le puntate nelle quali abbiamo trattato dei fantasmi sono la 1, la 2, la 5 e la 12 quindi vabbè scusate l'inesattezza grazie a tutti